Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra e buon lunedì, buon lunedì. Allora, parliamo un attimo della partita di ieri con lo Spezia, ma più che altro per argomentare meglio la situazione Juventus e il gioco di Massimiliano Allegri. Perché ieri molti tifosi della Juventus mi hanno sottolineato che adesso noi con i più 15 punti saremo a 47 punti e quindi tutto questo lamento dal sottoscritto, ma non solo, del gioco di Massimiliano Allegri è troppo esagerato. Allora, io cosa ho fatto ragazzi? Sono andato un attimo nelle ultime partite perché non voglio tornare indietro perché sarebbe un disastro nucleare. Nell'ultima partita la Juventus, partendo dalla Coppa Italia col Monza, ha vinto 2-1 con una botta di culo e una mega giocata di fatturazione assoluta di chiesa. Poi vai a giocare con l'Atalanta e pareggi 3-3. Vai a giocare con il Monza in casa e perdi 2-0. Poi da lì in casa con la Lazio vinci 1-0. Poi incontri la Salernitana e vinci 3-0. Incontri la Fiorentina e vinci 1-0. Poi incontri il Nant e pareggi 1-1. E poi incontri la Spezia, 2-2. Che cosa voglio dire con questo ragazzi? Sì, lo voglio dire proprio platalmente. Massimiliano Allegri con il suo gioco di merda riesce a portarsi a casa le partite con squadre di merda. Di merda. Perché quando tu poi incontri... Cioè, vi spiego. Tu hai vinto con la Fiorentina. Tu hai vinto con la Fiorentina. Una Fiorentina che stava perdendo ieri fino al 85esimo e passa. Ma forse al 90esimo ha segnato l'1-1. La Fiorentina che sta dietro a Lecce. Dietro a Lecce sta la Fiorentina. E vi fa capire tutto. Hai vinto 2-0 con la Spezia. Con un gioco di merda. Io mi stavo addormentando. Gol inventato da uno da Di Maria. E l'altro Costi ci ha fatto un bel cross. Su Ken che era pure sbagliata. L'ha lisciata. E gli è andata bene. Gli è andata in gol. La Salernitana. Che ne perde 10 e ne vince una. Forse, forse, con la Lazio. Forse lì, forse lì, che in quel video è andata a vedere, avevo elogiato la Juventus. Avevo elogiato la Juventus. Perché comunque vincevano 1-0 ma aveva fatto la partita. Infatti, lì avevo elogiato la Juventus. Guardate un po'. Poi, col Monza, non ne parliamo. Non ne parliamo. Che cosa, cosa... Ma con questo cosa vi voglio dire, ragazzi? Che la Juventus, quando trova una squadra che gli palleggia in faccia, proprio gli mette le palle in testa, la Juventus non la vince quella partita. Non la vince quella partita. E il Nantes, è l'altra dimostrazione, che nel primo tempo, nei primi minuti, fai la partita, vai in vantaggio, dopo hai spento la luce, soprattutto nel secondo tempo, e te la sei presa nel culo. Questo è il gioco di Massimiliano Allegri. Vi piace questo cortomuso con gol venuti a culo? Perché non è un gol venuti grazie a uno schema, grazie a un'azione corale della squadra. No, è venuto a culo. E voi mi vedi a parlare, prendiamoci questi tre punti. Sì, con chi cazzo li abbiamo presi questi tre punti? Ma con chi li abbiamo fatti questi tre punti? Con questo, alla fine del concluso, cosa voglio dire, ragazzi? Se la Juventus, con questo gioco di merda, con questa squadra che non gira, si trova a 47 punti, vuol dire che la squadra, il contenuto squadra, vale qualcosa? Ha delle potenzialità? Per me sì. E quindi, con un allenatore diverso, con un allenatore che ha impostato la squadra in maniera più adeguata, che la faccia giocare, che gli faccia esprimere a ognuno di loro il vero potenziale, sarebbe lì? Lasciamo stare adesso i 15 punti. Ma in Europa, parliamo anche di Europa, avrebbe fatto qualcosa di diverso? A mio parere sì. Forse poi non saremmo andati avanti, perché comunque ci sono giocatori che hanno dei loro limiti. Non è toccorso di Massimilio Allegri, parliamo, non sono pazzo. Però, però, tu con queste squadre piccoline, che sono giù e rischiano la retrocessione, fai tanta fatica. Fai tantissima fatica. Tantissima fatica. E' normale che poi vinci 1-0, ma perché a livello individuale non c'è paragone. Però li trovi poi un Monza di turno, che in campionato te l'ha messa nel culo, te l'ha messa nel culo, due volte. Due! Due! Perché gioca a calcio. Gioca a calcio queste squadre. Quindi la Juve ha problemi con che squadra che giocano a calcio. Guardate un po'. Ma guardate un po'. Quindi non è in questione di contentarsi o non raccontentarsi dei tre punti. E' una questione di essere sinceri. E' guardare le partite con obiettività. Non fate il tifosetto. Non fate il tifosetto moderno. Basta vincere. Sì, è l'unica cosa che conta. Però, gli occhi vogliono vedere. Ma noi vinciamo solamente a culo. Poi vai in Europa, incontri in Nantes. Eschi ruoli di perdere. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a Zeba. Iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao. Ciao.